Il reparto di pediatria dell'ospedale di Piacenza diventa direzione universitaria grazie alla nomina del primario Giacomo Biasucci a professore associato dell'Università di Parma. In questo modo l'unità operativa da lui diretta diventa parte integrante dell'Ateneo. È un riconoscimento di tutta l'attività in ambito pediatrico che è stato svolto in tutti questi anni che ha portato sempre più ad alzare l'asticella delle complessità delle patologie trattate con sempre maggiore competenza, con sempre maggiore aggiornamento grazie anche al sostegno e al supporto sempre costante dell'azienda OSL di Piacenza che ci ha veramente facilitato in tutto questo percorso che è stato un percorso lungo ma che è stato poi coronato veramente da una grandissima soddisfazione che pone la nostra unità operativa ma anche l'azienda OSL di Piacenza al centro dell'eccellenza sanitaria regionale. Questo percorso prosegue in parallelo con l'attivazione del nuovo corso di laurea in Medicine and Surgery in lingua inglese partito nell'autunno dello scorso anno a Piacenza. Come azienda siamo particolarmente orgogliosi del riconoscimento che prosegue il percorso di clinicizzazione che abbiamo intrapreso con l'Università di Parma quindi al riconoscimento già noto della ortopedia e traumatologia del professor Maniscalco come sede ulteriore si aggiunge questo del professor Biasucci e quindi della pediatria che diventa una sede ulteriore universitaria di Parma. Un processo di clinicizzazione per la sanità piacentina che consente di creare all'interno degli ospedali le sedi per lo svolgimento delle attività didattiche. L'Università serve anche a questo, serve ad attrarre giovani interessati, giovani ambiziosi, giovani competenti e quindi a tenere qui le eccellenze sanitarie che noi possiamo ovviamente formare e quindi tenere qui a Piacenza al servizio dei nostri cittadini. Il neoprofessor Biasucci ha anche mostrato un ritaglio di libertà con la prima intervista che gli venne fatta nel gennaio del 99 al momento della sua nomina a primario proveniente da un'esperienza all'ospedale universitario San Paolo di Milano nella quale manifestava la sua intenzione di mantenere collegata la pediatria piacentina all'ambito universitario. Oggi quel desiderio si è compiuto.